Ciao a tutti, buonasera, come state? Spero che vada tutto il meglio ragazzi per quanto possibile allora, allora, oggi video molto molto buttato lì, sono onesta con voi, pensavo di che cosa potrei parlare per intrattenere un pochino i ragazzi e magari fare anche qualche suono un po' particolare, parla piacevole e mentre lavavo i piatti mi è venuto in mente che, visto che vi piacciono tanto i video di show and tell in cui si parla di oggetti si mostrano oggetti, vi si racconta la loro storia, ho raccolto tutte le mie calamite che non sono tantissime, non sono nemmeno poche che non è una collezione, non sono una collezionista, però mi piacciono, ne ho diverse, soprattutto che mi hanno regalato da alcuni viaggi che hanno fatto parenti, parla amici e quindi mi andava così di farvele vedere anche perché comunque fanno suono interessante alcune e alcune sono anche proprio carine, quindi partirei dalla scatola che fa ridere già da sola che è questa scatola di biscotti di Cristiano Ronaldo allora, preciso che io non sono una fan, proprio per niente però erano in offerta qualche anno fa qua dentro c'erano i classici biscotti danesi, quelli al burro che sono la cosa più divina sulla faccia della terra in inverno, nel tè, quindi erano in offerta veramente a pochissimo e ne ho comprate due scatole questa qui rossa tra l'altro penso che qui giocasse ancora nel real e un'altra che è sempre oro e nera in questa ci sono le calamite di troppo perché un tempo le tenevo sul frigorifero le calamite ma siccome da quando ci siamo trasferiti nella nuova casa il frigorifero è a incasso, insomma a mille, in un fuori non le posso più tenere lì quindi adesso ce le ho sulla lavagna e non le tengo tutte quindi diciamo quelle di troppo rimangono qua dentro mentre di solito le altre le più belle le tengo sulla lavagna magnetica non le tengo Grazie. Allora. Allora le pescherò a caso. La prima è questa, che come potete vedere è anche un cavatoppi e è di San Francisco. Questa ce l'ha regalata mia suocera l'anno in cui appunto ho fatto il viaggio in America. Hanno visitato varie città e ci hanno portato tra le altre cose una calamità da San Francisco. Io adoro le cose fatte così con le riproduzioni insomma delle città. È una roba che mi piace tantissimo e poi non dimentichiamoci che è pure utile perché non la uso mai, l'avrò usata una volta. Però se non si trova nel cassetto quello che uso insomma in cucina è un attimo tirare giù questo e usarlo soprattutto quando ce l'avevo usato al frigo. Che prendevo la birra, la aprivo e la riattaccavo. Poi vediamo un po'. Altra calamità di una città, questa volta Londra. E questa volta me l'ha portata una mia amica. Adoro. La bandiera, poi tutti i tratti caratteristici insomma della città. È davvero molto bella. Poi questa ha proprio la calamità su tutta la superficie. Quella di San Francisco ne ha soltanto due piccine qua dietro, vedete? Questa qua si attacca, mi faccio fatica a staccarla a volte. Però è davvero 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 bella. Poi vi faccio vedere due calamite che abbiamo trovato nella casa vecchia quando ci siamo trasferiti. Che non hanno un grande senso logico però allora questa rappresenta due zucche che comunque sono molto carine. È un po' rovinata e lo era già... Vedete tipo anche qui si vede che è caduta. Però l'abbiamo tenuta per ricordo, no? Quando siamo arrivati in casa c'era. E l'abbiamo portata via quando poi ci siamo trasferiti. E stessa cosa questa che è una I. Dietro c'è scritto Iguana e penso che tipo fossero all'interno delle merendine. Sapete che ogni tanto nelle brioche della Kinder così ci mettono delle sorprese. Secondo me questa era una vecchia collezione in cui mettevano le lettere con le parole. Ho questa sensazione. Questa qua è pesantissima perché in ceramica questa invece è plasticaccia. È leggera, leggera. Poi vediamo un po' cosa pesco. Allora, questo è un sasso che ho preso al mare diversi anni fa ormai. E siccome è molto bello, io con questi sassi avevo fatto un vasetto. Però me ne erano avanzati due questo e un altro che non ci stavano. Allora in questo ci ho attaccato dietro io una calamita. E lo uso appunto come calamita. È molto bello con questi riflessi. Poi comunque è sempre un ricordo. Molto molto bello. Poi altro viaggio non mio. Questa me l'ha portata mia sorella che è stata appunto in vacanza sull'isola d'Elba con la famiglia. e me l'ha presa. Non so se sapesse effettivamente che ho piacere insomma ad avere delle calamite un po' particolari. O se fosse stato un caso sinceramente non lo ricordo. Però è bellissima, mi piace tantissimo tutto. I colori, il dettaglio sopra, la stella che pensola insomma è stupenda. E c'è scritto appunto in sola d'Elba. Allora, altra calamita di un posto diciamo. Questa volta si tratta di tutta la Sicilia. Non c'è una città particolare o una località particolare. Questa l'ho trovata in un pacco. Ho fatto un ordine sulla bottega di Gio. Mi pare che vi ho fatto anche un video una volta. e che ha appunto la sede in Sicilia. E all'interno del pacco c'era questa calamita che è molto carina perché vedete che è tipo un topo di birra di bottiglia. E poi appunto c'è raffigurato questo paesaggio con questo carretto. E sopra c'è scritto Sicilia. Molto carina. Soprattutto perché io adoro i pensieri che hanno sempre in quel negozio. Ti lasciano sempre un omaggio. E sono molto molto carini. Poi questa invece l'abbiamo presa noi quando siamo stati in vacanza ormai due anni fa a Lignano. È sullo stesso stile di quella dell'Isola d'Elba. Solo che questo è a forma di piedino. E ci sono disegnati sempre degli oggetti che riguardano insomma la spiaggia. Conchiglie, palloni, strai, cose così. Molto semplice ma un bel ricordo. Questa ci è stata regalata penso da un amico del mio ragazzo o da un amico suo. E è questa tartarugina super super dettagliata. Vedete che ha tutte queste perline. Ha questi pezzetti di specchio. È molto molto bella davvero da vedere. E la tartaruga mi sa che è uno di quei simboli che dovrebbe portare fortuna. Correggetemi se sbaglio. Comunque non mi ricordo dove l'ha presa giuro. Non mi ricordo dove è stato in vacanza. Non c'è scritto da nessuna parte. È strano perché la calamita è solo questo tondino qui. E è parecchio pesante. Però è molto molto forte. Cioè quando si attacca non è che scivola o quant'altro. Quindi molto particolare. Però molto bella. Vi faccio vedere anche le ultime che sono quelle classiche. Che ho un po' di tutti i colori. Ad esempio questa qui piccola minuscola grigia. Era quella che c'era insieme alla lavagna magnetica che abbiamo comprato. Ce ne erano due ma queste non le uso perché sono proprio bruttine. Poi ne ho tutta una serie di queste qui. Che sono quelle classiche da pacheca. Ce le ho di tutti i colori. E anche così a forma di stellina. Forse ho anche qualche cuoricino ma mi sembrano. Forse sono tutte stelline. Non mi ricordo comunque di queste. Ne ho una decina. Di tutti i colori. E poi è finito il contenuto della scatola. C'è soltanto quest'altro sassolino qui. Che magari avrei potuto trasformare anche questo in una calamita. Ma forse perché non ha la superficie molto piatta. Quindi avevo paura che non si accroppasse bene. Ma non l'ho fatto molto semplicemente. Anche perché ne ho davvero parecchie. E la lavagna non è che sia così grande. Quindi va bene così. Le rimettiamo a posto con molta calma. Senza fare rumore. Spero. A presto. A presto. Barbarba Eccoci qui ragazzi. Abbiamo finito con le calamite. Io spero che questo video vi abbia tenuto un po' di compagnia. Abbiamo fatto due chiacchiere leggeri insieme. come al solito vi auguro tantissima serenità che è la cosa più importante del mondo e se questo video vi è piaciuto vi aspetto molto molto presto con un nuovo video un abbraccio